Ecco, a ora. Nelle milongas, soprattutto nelle milongas, purtroppo si corre il rischio di non arrivare a conoscere persone, cantanti, artisti come Corsini, perché raramente i DJ, i musicalizzatori, pongono questi temi per ballare. Quindi si corre il rischio di non conoscere. Nelle milongas, la maggiori italiani che arrivano al tango, come in tante parti del mondo, per il ballare. E sta tutto bene, vanno a ballare, però la maggiori si perdono queste cose hermosi, perché non lo dj non lo ponen, perché non è ballare, o non c'è la curiosità per arrivare a questo, e Sandro subraia che si stanno perdendo una cosa hermosa del tango. Sto facendo una sintesi, sto dicendo che si perdono senza conoscere l'altro 70% del tango, una cosa meravigliosa, perché il tango bailato, podemos dire, è un terzo dell'universo tanghiero. E in particolare, poi finisco, per Corsini, da cui si evidenzia chiaramente, nonostante lui sia partito piccolissimo dall'Italia per arrivare in Argentina, e abbia avuto, in fondo, pochi contatti con l'Italia, gli sia rimasto dentro, forse a livello di DNA, questo stile tipico del canto italiano. Molto ingolato, molto romantico, molto dolce, che lui conserverà tutta la vita e che lo differenzia da tutti gli altri, soprattutto da Gardella. Sì, sta dicendo che, nonostante che arrivò chiquito a l'Argentina, questo è una considerazione che ha fatto Sandro, perché è un tecnico anche di queste cose, che trovano la maniera di, e anche gli argentini che comprendono, io quando sento Corsini, sento uno che viene dal campo che canta, dal campo a la città, però la maniera di cantare, lo sta dicendo Sandro, è molto tipica del canto italiano, per lì lo tenia in il DNA, in il AND, come si dice in il mondo spagnolo, e che questo lo caratterizzara per tutta la vita, e che lo differenziava di altri e del mismo Gardella, e fu uno dei pochi, come dicevamo in la charla anterior, che non quiso imitar a Gardella. A me gustaría dire qualcosa, che abbiamo detto soprattutto quando, generosamente, noi invitiamo a dare un'altra charla in Italia, che lo che passa con Corsini passa con molti artisti, e è lo siguiente, Corsini è un argentino che nasce in Italia, come molti altri, come Morano e tutto. Ora bene, gli argentini, anche non hanno ascendimenti italiani, per la composizione tan particolare di nostra società, ricevono questa influencia. Può essere descendente di spagnoli o di polacchi, e, sin embargo, hanno incorporato, come noi siamo una mezcla, abbiamo incorporato elementi dei poboli originari, abbiamo incorporato, ovviamente, elementi di Spagna, ci sono anche elementi... Molto interessante quello, perdoniamo il Roberto, se non è come Piero, quello che ci dice Martina, che dice, lui è arrivato, che aveva cinque anni, è arrivato dall'Italia, ma magari se fosse nato lì, o fosse arrivato da un altro paese, probabilmente quella maniera di cantare era lo stesso, perché era già dentro alla società di Buenos Aires, e la società argentina questa maniera del canto italiano, come magari avevano altre cose di altri paesi, quindi è una mescolanza molto particolare, molto interessante quello che è accaduto nel rio della Plata. Io sempre uso un esempio molto gracioso, che è gracioso, ma è reale, e dicono, gli argentini siamo molto affetti a cuore pizza, per noi pizza, pizza, e è quasi come una comida, deve essere la più popolare, anche del asato, e, curiosamente, quasi tutte le pizzerie, ora non tanto, perché si va perdendo, va passando il tempo, però tutte le pizzerie stavano in mani del gallego. Vedi la differenza? E' una cosa, è bellissimo questa relazione che fa nella società di mescolanza. La pizza è un mangiare italiano, e la pizza in Argentina, non so, è famosa come l'asato, o dopo l'asato, ma adesso non tanto, ma fino a qualche decennio fa, tutte le pizzerie erano in mano, o la stragrande maggioranza, erano in mano gli spagnoli, non gli italiani. Quindi facevano la pizza, che è un prodotto italiano, ma la producevano, i negozi, i ristoranti, le pizzerie, erano degli spagnoli. Quindi questo è un esempio, un esempio di questo incrocio meraviglioso, che ci sta tocando. una magia. Una magia. una magia. Una magia. come i porti, come i porti, noi movemo le mani come i loro, come i loro. in questa maniera gesticolare dell'Argentino come l'Italiano e magari più e dentro dell'Argentino, come dice Roberto non sono tutti descendenti italiani però sì la maggiori l'argete il punto la cultura italiana sta dentro la cultura italiana dice la maggioranza tutti gesticolano come italiani ma non sono tutti i descendenti italiani però sì la maggioranza e allora anche chi non è italiano ha questa maniera di gesticolare e quindi nel canto potremmo dire che accade qualcosa non gli voglio fare chiedo scusa, non gli voglio fare un complimento ma è un'asserzione che sento profondamente che io credo che l'Argentina sia uno dei pochi, rarissimi esempi di vera integrazione di popoli diversi cioè ci sono fusi proprio una fusione totale in armonia senza suscitare differenze di razze di livelli cioè questa secondo me è un vero esempio di integrazione è vero è vero è molto importante lo che ci dice Sandro perché Sandro sta fuori di noi sta dentro però non è stato in Buenos Aires e ascoltando e ascoltando e ascoltando le charlie e andando con noi si dà cuenta e dice che è come e sostiene che questa integrazione che si creò in Argentina c'era una 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 la poca integrazione così forte è reale così globale così integrata di diverse pueblos di diverse razze che non si sono in altre in altre nazioni e il esempio di questo è il il esempio di cui è il e sì anche che ha avuto un momento di racismo non si fu non non evidente ganava la ganava la integrazione natural digamos si si volviamo a Corsini volviamo a Corsini si però dejami una sola cosa para cuando decimos que Davino Ezeiza era negro que Enrique Macer era negro nosotros decimos negro y en realidad a mi como argentino me choca cuando dice afro argentino no es argentino es un negro argentino para nosotros negro no es malo no es malo es normal es un negro como uno puede ser rubio colorado no 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 califica malo in argentina in argentina la parola nero non è una cosa che squalifica no come tano dopo è carigliosa è carignosa è affettuosa infatti infatti mi ha molto colpito quasi commosso il fatto di scoprire che quando voi vi rivolgete a un bambino piccolo che dice ma che lindo che negrito no che il negro addirittura è qualcosa di bello ed è una cosa stupenda si se cortò se ha scomparso no 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 ah sta padrillo me stanno chiamando però corté 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 la pulpea santa lucia che la puoi ascoltare in la riunione l'anteriore che cantò bárbara accompagnata del marcello è uno dei discos che mai si ha vendito in la storia diciamo della cultura popolare si si vendono ma di un millon di discos in una epoca dove non non c'era tanta poblazione è un èxito impresionante quel successo quel vals che prima ha cantato bárbara accompagnata da marcello la pulpea santa lucia è un è un successo eccezionale si sono venduti più di un milione di dischi e pensiamo che era l'inizio degli anni 20 è dire questi due autori Enrique Maciel che fu il guitarrista di 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 che che hizo la musica e Hector Blomberg che hizo le letra crearon una serie di 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 sono le dieron a Corsini su elevato nivel esas obras in general trataron de una época de Buenos Aires la época de Rosas 1830 1850 1850 si perdono Enrique Maciel che era il chitarrista faccia la musica Blomberg era il letrista in 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 italiano in in italiano patrista Bravo Pat, dai. Enrique Massiel era colui che componeva la musica, di origine nera, era afro argentino, e Blomberg, colui che faceva i testi, crearono dei brani meravigliosi che poi li cantava Corsini e che fecero un grande successo questa società, questa unione di questi tre personaggi. E soprattutto erano temi molti ambientati nel periodo di Rosa, nel periodo degli anni 1830, 1850, 1829, 1852. 1829 per essere precisi, 1850, ok. Fijese che in la letra di la pulpera va a aparecer termini come mazorquero, mazorquero, la mazorca era un gruppo, digamos, di miliciani, di soldati, di lucha che aveva Rosas. Aparece anche il nome di Lavalle, Lavalle fu un generale che si affrontò con Rosas. E' a dire, va dando questo clima, di tal livello che molti credo che questo era quello che aveva passato, ma in realtà è un clima poético basato in questa epoca. Certo, se crea un clima poético fatto in quel periodo, tanto è vero che si parla della mazorca, che era un gruppo militare o paramilitar, no? Sì, sì. Il paramilitar che aveva Rosas, parla della Valle, che era un oppositore a Rosas, e quindi viene, dice, sembra che sia successo solo quello in quel periodo, ma ovviamente non era solo quello, però veniva, e l'humus in cui veniva fatto queste canzoni, queste cose erano ambientate in quel periodo lì, in maniera ovviamente romanzata. Certo, per esempio, la mazorquera di Montserrat, la china della mazorca, la gitarra di San Nicolà, cioè, Blomberg, diciamo, poetizzò, diciamo, tutta questa epoca e gli ha dato a conoscere un repertorio straordinario, che ancora oggi ascoltiamo. Sì, ha messo in poesia Blomberg tutto quel periodo lì, ripetiamo, e le ha consegnato appunto per il canto a Corsini, che fu un successo enorme che oggi tutti quanti anche ascoltiamo. Lo sai che penso che la gente sta convencida che i payadores, i gauchos, in l'epoca di Rosas cantavano come Corsini. La cosa incredibile è che la gente magari è convinta che i gauchos e i payadores in l'epoca di Rosas cantavano come Corsini. Che fratto è arrivato dall'Italia. No diciamo che Bárbara stuvo bárbara, eh? Bárbara stuvo bárbara. Para che senti. Puedo dire una cosa? Sì? Puedo dire una cosa? Sì. Questo lo faccio, un secondo. Puedo dire una cosa? Sì. Un tango che tutti ballano, che tutti ballano in qualche parte del mondo, batotero sentimentale. lo ballano generalmente con Di Sarli cantando Rufino. e qua lo abbiamo ascoltato quando una grabazione di Ignacio Corsini, la musica di Joves e la letra di Manuel Romero. Lo grabò Gardel también, no? Sì. Pensé que ibas a decir que era autorreferencial. Ese tango. Sì. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, pero además Blomberg y Maciel hicieron otras obras fuera de este ámbito, digamos, federal, o ético-histórico, no? Sì. Por ejemplo, la que murió en París, la viajera perdida, el adiós de Gavino Ezeiza, el barrio viejo del 80. Es decir, obras de una belleza, digamos, sustantiva. Ok, no solo fecero Blomberg e Maciel, no solo fecero quei brani que habían detto ambientati nell'epoca de Rosa. Han fatto degli altri tanghi, que li ha nominati Alejandro, che erano delle cose superlative. Dijiste la che murió, con lei che è morta a París, la che murió en París. La viajera perdida. La viajera perdida. La viajera perdida. Recomendables versiones del Mundo Rivero, no? Hermoso. Bueno. Vos sabés que, hablando de Rivero, hay una película que actúa Corsini, creo que del año 40, 41, en que aparece el Mundo Rivero. Ah! No me acuerdo como se llamaba la película. Y él estuvo Ídolos de la radio, y después estuvo Fortinalto, creo que en Fortinalto. No, Fortinalto, en Fortinalto. En el año 41. Ahí aparece, sí, aparece algún, Agustín Inusta y el Mundo Rivero, que debía ser un muchacho, no? Sí. Claro, claro. Tenemos que decir que el sobrenombre, el apodo de Ignacio Corsini, apodo dado por el pueblo, era el caballero cantor. Un sopranome que dieron a Corsini, que lo ebbe por toda la vida, el gentiluomo cantante, el cantor gentiluomo. Yo creo que a nosotros nos ha llegado mucho, nos emocionó que Bárbara nos haya cantado, o haya cantado, que nos haya cantado, haya cantado La Pulpera de Santa Lucía. Está bien que este programa está direccionado a Corsini, pero Bárbara también, además de bailarina, coreógrafo, es una gran cantante de tango. Yo ya se lo dije una vez que me mandó un disco. Y no estaría mal que la fastidiáramos, y a lo mismo que a Marchelo, que veo que tiene el piano a mano, si nos convidara con un café, no? Digo. Ok, exacto. No, dice, intanto ringrazia tanto Barbara e Mancello che hanno prima cantato La Pulpera de Santa Lucía, Marcello in quel caso lì aveva la chitarra, ma ha osservato Roberto che c'è anche il piano e quindi perché, anche se non è un brano che cantava Corsini, perché Barbarina non ci delizia magari con un altro tango. E siccome abbiamo voglia di prendere un caffè, potrebbe essere qualcosa legato, appunto, se ci offre qualche caffè, Barbara. Va bene, proviamo. Proviamo. Proviamo? Sacamo nel... Ah, vede. È il microfono? È il microfono. A te, Barbara. Sempre con molto rispetto. Non è un microfono. Gira la cuchara de caffè Del ultimo caffè E tu labio con frio Quiere saber con la voce un suspiro Ricordo che del vento evoco sin razone, escucho sin crecer Si lo muestro terminò, dixiste un adiós di a su carità Yes Si il vente Perverter 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e Marcello Ferrara italianos di Ravenna cantando e tocando tango Barbara avrà visto che tiene un accento che quasi non parece italiana perché viveva in Mendoza ti gustò Mendoza? Sì, moltissimo ho vissuto la parla in italiano così tu lo traduci ho vissuto a Mendoza per più di un anno ok un anno lavoravo in una compagnia di danza e là parlo del tutto il 2000 e parte del 2001 e là ho incontrato il tango per cui mi ritengo fortunata perché prima ho vissuto come loro e poi ho cominciato a cominciare il tango benissimo viviò viviò in Mendoza un anno nel 2000 del 2001 e trabajando come bailarino una compagnia e e lì descubriò il tango e lo che è e lo che è la società argentina in Mendoza in ese periodo e quando vino a Italia empezò a a a a a enseñar tango e e a pasar lo che había lo che había visto lo che había absorbido in in Mendoza in Argentina grazie a Barbara molto e anche conosce il buon vino il buon vino e noi teniamo in comune con Corsini il fatto anche noi abbiamo una cosa in comune viviamo in una città della Pampa Romagnola una piccola città la città della Piavina è no? sì 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 come la Piavina si mangia bene sì 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 bene e che vive in una piccola città di Ravina è una provincia e io vivo in Lugo dico bene anche Marcello vive a Vita Lugo io vor lui a Forlì io a Lugo ah lui vive in Forlì e Barbara è Lugo che è cerca di Ravina Barbara nos invitò a Lugo noi conosciamo Lugo sì come Barbara molto linda e io in i anni 72 73 avevo a Lugo lugo e anche questo mi ha toccato per sobrevivere bene come siamo quasi terminando le diciamo a Sandro che vuole sempre fare una domanda va Sandro ma più che una sì è una domanda è una conferma mi ha molto colpito di Corsini questo questo artista così poliedrico no così bravo così affermato che addirittura diventa un pagiador bravo come i pagiador che c'erano ma che comunque conserva un senso della famiglia lui quando finiva i suoi impegni artistici tornava a casa non era un 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 menestrello che gira che va lui tornava a casa dice che lo che si lo che le chiamò molto la atención che nonostante un personaggio della Noche un cantante quando terminava lo che tenía che hacer volvì a casa e una persona tranquilla dire no se confirman esto con un senso de la familia di casamento molto stable e il quiebre del artista se produce quando muere la mujer tiene un golpe muy grande e praticamente se retira muere después però dice che sa tu matrimonio riuscito e que quando muerta la molla le hubiese un colpo veramente notevole e iniziò il declino poi ritornò ma non era quello di prima un artista absoluto no era una torrante de la noche no era una torrante de la noche fue lo que proclamaba el pueblo era un caballero y fue un artista absolutamente querido entrañable artista para para el pueblo un artista popular pero con ese toque de distinción esa finura un artista popolare ma con un toque de distinción lo distingueva e per quello è stato batizzato il cavallero del tango il il gentiluomo bueno bueno muchas gracias a todos en un ratito tendrán este material yo pondría como para irnos despidiendo agradeciendo pongo el adiós a Gabino Ezeiza por Corsini para así como sotofondo musical bellísimo brano escuchamos gracias gracias y abrazo un gusto verde ok a todos gracias 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 a todos gracias a todos a todos hasta la próxima Ciao, ciao. Grazie a tutti.